Nuove sfide. Forse è da qui che i Banuke sono saliti e scesi dalla montagna. Forse è da qui che i Banuke sono saliti. Forse è da qui. Forse è da qui che i Banuke sono saliti. Forse è da qui che i Banuke sono saliti. Forse è da qui i Banuke sono saliti. Forse è da qui i Banuke sono saliti. Forse è da qui. Qualcuno è stato qui, dirigente. Quelle erano… Forse è da qui. Forse è da qui. Forse è da qui. Non puoi lasciarci qui. Ti ha mandato Vilgund? Allora i frammenti comprano una coscienza. Non ha importanza. Nora, tu devi fermare gli altri. Va avanti. Siamo arrivati qui. E abbiamo scoperto un dispositivo antico. Era palese che fosse responsabile della calma delle macchine. Gli altri Zucconi hanno deciso di portarlo a Rupestria per venderlo. Ma è già ridotto male. È come se fosse caduto dal cielo. Abbiamo provato a farli desistere. Senza quella cosa quassù, quei Banuke verranno massacrati. Li fermerò. Voi due andate bene da qui. Mi sembra che abbiate già fatto abbastanza danni. Beh, una giusta osservazione.